Sono due insegnanti in servizio nell'asilo nido di via Santa Maria di Capo a Trapani, la loro lettera è indirizzata ai vertici dell'amministrazione comunale con in testa del sindaco e l'assessore alla pubblica istruzione e un accorato appello a non dimenticarsi dei più piccoli. Il loro allarme va letto tra le righe a settembre fate in modo che gli asili siano aperti e che i bimbi possano ritornare fra le colorate mura didattiche degli asili comunali. Non la menzionano direttamente ma è evidente che fra le righe si legga la paura legata al fatto che l'amministrazione possa decidere sempre per le norme anti-covid-19 di tenere chiuse le strutture didattiche comunali preferendo in alternativa strutture private. Le due insegnanti, Adele Cammareri e Stefania Prinzivalli, chiedono a nome delle 64 famiglie aventi i loro figli iscritti presso gli asili nido comunali di non dimenticarsi di loro, di impegnarsi affinché una città come Trapani, sede delle europeadi, non perda l'eccellente servizio dei nidi direttamente gestiti dalla pubblica amministrazione. Il covid-19 e il loro estremo grido di allarme non può impoverire a tal punto la città di Trapani. Hanno ragione a lanciarlo o sono solo vittime di un'errata interpretazione delle parole del vice sindaco Abruscato? Gli asili nido comunali di Trapani sono sempre stati un fiore all'occhiello e loro funzionalmente, perfetto il risposto al cittadino, fanno parte della storia di questa amministrazione e se permettete di tutta la città. Qualora le norme lo possano prevedere, noi continueremo il servizio magari articolato in maniera diversa, questo sì, perché le esigenze cambiano. Ma se le norme e tutte le, nel rispetto del covid-19 noi potremmo aprire questo servizio che è davvero importante per i cittadini più piccoli, guai a chiuderlo. Va da sé il fatto che le famiglie hanno delle esigenze diverse, magari il rapporto degli insegnanti può essere diverso. Ma voglio tranquillizzare non solo i dipendenti, ma non è questo il problema, ma ritengo proprio il cittadino, che è un servizio che va dato, che sebbene molto costoso, però distingue l'azione di un'azione amministrativa importante e ci mancherebbe se noi non cerchiamo di fare le cose soprattutto per il bene di tutta la comunità.